ciao ciao amici benvenuti o bentornati qui sul mio canale sono il carletto e sono qui anche oggi per regalarvi una bella recensione anzi più che uno faremo oggi un po di recensioni poi voi logicamente sul canale le vedrete un po alla volta se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale allora oggi andiamo a parlare di un robot che appena uscito il day leon che noi diciamo chi che è sto dai leon perché qua in italia effettivamente non è mai arrivato so che ha spopolato in giappone ha spopolato in francia forse in europa mi dicevano arrivato solo in francia però qua in italia non è mai arrivato nessuno lo conosce io vi faccio vedere un video che ho trovato sullo youtube che praticamente fa vedere un po di spezzone allora andiamo a vederlo così vediamo lui combatte vedete e questo è julie note vedete questa è tipo la sigla guardate è un robot astronave un robot che si trasforma l'astronave codesto pilota lo pilota vestito così quindi avrà tutte le ascelle strapezzate perché tutti i combattimenti sono in pieno agosto come vediamo con un sole che spacca le pietre però guardate la sigla è carina è vedere guardate guardate qua adesso voglio far vedere questo robot astronave diciamo a due armi fondamentali vabbè combatte tipo megaloman e ultraman contro i mega pupazzoni dinosauri ma a suon di pugni dei cazzotti vedete calci rotanti tutto quello che volete bello bello questo video fatto carino per dimostrare un parobot vedi combatte in questi grattacieli vedete lui sempre strapezzato perché bardato così con 40 gradi lo pilota dall'interno lui volevo far vedere le armi perché c'è un raggio praticamente vediamo solo a vedete questo raggio dal petto nella sua arma poi la sua arma più potente guardate qua andiamo avanti è una spada con alla base una rondine volante vedete già questa già questa rondine volante con questa spada che taglia vedete a pezzi i poveri pupazzoni che fanno una brutta fine allora che dire la sigla la sigla è carina lui è una sorta di megaloman ultraman che pilota però questo robot onzolo e quindi era doveroso farvi capire di che cosa stiamo parlando perché noi qua non l'abbiamo mai visto allora la critica è stata positiva con questo pezzo qua vediamo che ciò coltelliccio cover coltellucci per aprire la scatola perché dicono che è fatto veramente bene allora il packaging è particolare piccolo piccolo però è bello massiccio è pesante sembra rendere scusatemi sembrare eccola qua ragazzi c'è la spada con il picciolo volante alla base vedete c'è lui che anche un'altra spada piccolina è bello massiccio qua siamo tornati al metallo hanno ascoltato le mie le mie preghiere nei video precedenti guardate qua questo qua il libretto di istruzioni dai allora apriamolo vediamolo bene bene nel dettaglio da vicino come mi piace fare a me non è male carino carino finalmente sono tornati al metallo e bello pesante a vederlo così rende ma onestamente questo lo consiglio soltanto per chi è un completista diciamo così e vuole avere tutti i jigs perché io che non l'ho mai visto non lo prendo questo l'ha preso il massimo me l'ha concesso per farvi la recensione quindi lo ringrazio come sempre quando mi preste modelli allora devo dire la verità guardarlo è carino è fatto benino e dai vediamolo bene 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 perché sapete che io voglio fare le cose fatte bene andiamo proprio a vederlo bene nel dettaglio da vicino eccoci eccoci qua partiamo subito con un lode per questo modello per bandai che sono porco cane qua scarica sono tornati a utilizzare la zama il metallo perché guardate qua sto bestione qua anzi bestione non è neanche tanto grande pesa mezzo chilo e io mi chiedo ma porca di quella boia ma ci dovete mettere il metallo in sto robot che è sconosciuto per noi mettetecelo nei nostri robot ideologi ragazzi sapete che sono piena no mettetelo nei nostri robot che conosciamo anche noi perché veramente questo quasi è carino ma non lo conosce una ceppola di nessuno allora devo vedere libretto di istruzione allora come potete vedere qua abbiamo il robot la trasformazione come abbiamo detto che si trasforma in astronave guidata al suo interno da lui poveraccio che con quella caluria deve guidarlo questo robot tutto pezzato così poi qua vediamo tutto il robot che troviamo all'interno con i suoi pezzi questo è il cattivone che ragazzi guardate è una scopiazzatura di dart vader quasi incredibile questa qua è veramente credibile guardate pure sul petto i pulsantini così sembra proprio un dart vader laia dal bella dal nostro ti hanno copiato scopiazzato in quest'area e questa è la spada colpisce una lato questo c'è lui fa vedere come metterlo sulle basette po di valine qua ci fa vedere bandai tutta la sua trasformazione in astronave la basetta come andarla posizionare allora vediamolo bene 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 eccolo qua dai leon comunque complimenti a bandai che ha messo un po di ferro finalmente l'ha fatto massiccio questo è il primo blister ragazzi dove troviamo tre manine e l'aggancio della pedana andiamo veloce questa è la famosa spada con fringuellus volante vedete qua c'è il fringuellus volante e questa è la sua spada micidiale con cui taglia di sue occupazioni di gomma questo qua è il pilota vedete su quel pilota anche lui che l'hanno fatto con la sua spadina però vedete fatto bene devo dire la verità bandai su questo modello ha messo il ferro ha lavorato bene il modello non è non è non è niente male andiamo a vedere le altre due parti qua che sono praticamente vedete qua questa sorta di motoretta tento di farvela vedere nel dettaglio anche se microscopica guardate questa sorta di motoretta e questa sorta di sembra quasi uno dei veicoli dei gaccia ma vedete nel questo veicolo qua piccolino qua allora passiamo a robot il serve vero e proprio allora andiamo a vedere è tutto massiccio metallo guardate che belle le cromature sulle gambe le parti è veramente ragazzi pesante da un senso di pesantezza guardiamo la parte qua della testa come è fatta bene gli occhi vedete che sono presi proprio un po tipo anche quelli la del super robo 28 fatti così però fatti veramente bene la parte qua che poi diventa la punta dell'astronave vedete curata bene il dettaglio c'è vedete qua anche se andiamo a vedere le parti qua vedete qua c'è un po di sbavatura appena appena leggera ma un puntino sapete che io sono super critico comunque guardate qua il modello c'è vedete se la parte dietro vedete qua si abbassano poi diventeranno pensi reattori dell'astronave dopo lo trasformiamo guardate hanno curato il cromo anche fino quasi alla fine dello snodo della gamba fatto veramente veramente bene guardate qua questo qua vedete si tirano su e giù penso che siano a va completamente in alto che sarà la parte che andrà utilizzata per poi la trasformazione in astronave vedete qua dietro ci sono le due torrette non ha sbavature come solito bandai la qualità vedete c'è sono molto rigidi vedete gli snodi si alzano le spalline per darci la possibilità di farle una bella posa magari dopo lo mettiamo con la spada in mano comunque veramente il modello mi ha stupito perché il modello io non lo conosco quindi non ho mai visto una puntata del cartone non sono di parte e ribadisco quella cosa il modello non è brutto guardate come hanno studiato anche la parte della copertura delle spade scusa date delle spalle qua vedete si vede praticamente che cosa è olio pensate c'era un goccino di olio all'interno gli hanno messo l'olio andiamo da pulirlo per muovere bene questa parte c'è un goccio di olio per non far graffiare sotto perché quando lo muoviamo vedete c'è un goccio di olio vediamo di qua alla stessa cosa anche di qua c'è un goccino di olio si vede all'interno per rendere questi pezzi qua morbidi comunque guardate il modello c'è vediamogli un giro veloce con la spada così poi vediamo un giro trasformato in astronave concludiamo ragazzi guardate cosa ho pensato che se lui lo pilota gli dobbiamo far fare la stessa posizione ho messo il dai leon nella posizione del suo pilota vedete la posabilità eccezionale guardate fatto veramente bene massiccio completamente in metallo e per tutte le persone che vogliono completare la linea gx sicuramente è bello è uno finalmente dei gx realizzati con tante parti metallo è quasi tutto metallo molto pesante e quindi questo gx 97 dai leon è veramente azzeccato secondo me però è per i completisti perché per esempio io che non ho mai visto una puntata di questo pseudo telefilm diciamo così come ho fatto vedere all'inizio perché è una sorta di megalo man e ultraman diciamo combatte contro questi dinosauri di gomma giganti praticamente per chi come me non ha mai visto una puntata della della serie è un po un robo inutile spero però che finalmente banda e ritorni a utilizzare il metallo perché poco cane qua in questo qua che sconosciuta hanno usato tanto metallo e realizzato veramente un bel gx questo gx 97 nonostante non l'abbia mai visto non posso dire che è un brutto gx perché c'è la tecnologia c'è la parte in metallo e non mi dispiace anche se non ho mai visto come già detto il telefilm pensato amici che prima di farvelo vedere da lontano girare vi faccio vedere un secondo la trasformazione finita in astronave anche da vicino guardate qua il corpo si ruota va in avanti sale questa parte qua devo dire guardate qua che cosa ha fatto bandai ha fatto un lavoro super la trasformazione è semplice vedete è veramente semplice quella parte delle delle braccia che si girano vanno all'indentro con i pugni vedete fatto veramente bene e secondo me ha fatto un discreto un discreto lavoro guardate qua veramente bella massiccia fatta bene la testa è all'interno qua praticamente ragazzi dove dove mettiamo le navicelle ma la testa è qua all'interno vedete ed è fatta veramente veramente bene non me l'aspettavo guardate qua che cosa ha fatto da vediamo un secondo girare però è anche la trasformazione semplice intuitiva non è niente male eccolo qua in trasformazione aerea e devo dire la verità ragazzi hanno lavorato bene con il day leon peccato che noi non lo conosciamo perché qua in italia come già detto non è mai arrivato ma questo è di buon auspicio che se nel gx 97 questo day leon hanno utilizzato tutta questa zama tutto questo metallo questo sicuramente non può essere altro che di buon auspicio diciamo bandai riprendi così alla grande a utilizzare tutto questo metallo questa sicuramente è l'augurio che ci facciamo tutta anche poi per modelli che noi conosciamo e che saremo lieti di vedere tutti in metallo mamma mia magari ci pensate ragazzi che bellezza un baldios di bandai tutto in metallo o con j king mamma mia mamma mia quindi chissà chissà il futuro cosa ci aspetta comunque questo devo dire la verità anche se non lo conosco è promosso è promosso perché è fatto veramente bene c'è un ingegneria dietro ragazzi voglio far vedere nella trasformazione mica male la trasformazione eccezionale guardate qua si ruotano tutte le parti che vanno incastrate una dentro l'altra ed è spettacolare intuitiva si trasforma facilmente ed è fatta veramente bene quindi lui è promosso sicuramente andiamo a concludere concludiamo questa recensione con dire che questo day leon che adesso vi ho lasciato in trasformazione astronave è veramente bello ragazzi io non l'avevo mai visto non ho mai visto una puntata quindi come già vi ho detto all'inizio recensione me lo sono fatto dar per recensire ma devo dire la verità che questa volta al massimo ha fatto veramente bene a prenderlo perché secondo me è un bel gx si ritorna tanto metallo e speriamo che vada avanti così bandai per i prossimi modelli e integri tanto metallo come in questo day leon che veramente pieno carico e massiccio ti dà finalmente un po' il ritorno al passato di quel diciamo di quella materiale ottimo quella zama quel metallo che ci esaltava un sacco ma che ci salta almeno personalmente mi esalta ancora tutt'oggi allora lui è promosso è fatto veramente bene e che dire se siete dei completisti non vi può mancare perché è veramente bello io non ho visto la serie quindi non lo prenderò ma devo dire la verità che è stato un piacere di censirlo è veramente un bel prodotto e realizzato veramente molto bene quindi ve lo posso consigliare questo quando questo quando lo consiglio veramente ragazzi saluto dal carletto se vi è piaciuta la recensione pollici alzati facciamoli andare questi cavolo di pollici attivate la campanellina ma soprattutto iscrivetevi al mio canale saluto al carletto da dai leon il suo pilota pezzato che a guidare quest'astronave dall'interno sarà stato sempre pezzato alla prossima recensione ciao ciao ragazzi